Giorgio, Brescia-Bergamo, gemellaggio speciale, lo porti in giro anche tu un po', non solo i sindaci che faranno il giro in vista della capitale della cultura dell'anno prossimo, è una mille miglia ricca di simboli questa? Assolutamente sì, la cosa importante è che questo è un obiettivo, un traguardo molto importante, essere capitale della cultura, tra l'altro con due città che sono molto vicine siamo cugini, io sono nato a Bergamo ma ho sempre considerato Brescia come una sorta di parentela molto vicina, molto stretta, quindi è per me un privilegio essere nato a Bergamo e essere qui a fare testimonio della mille miglia quindi sono, come dire, mi sento veramente un trade union perfetto per quello che è un risultato secondo me meraviglioso storico L'equipaggio con Sonny Colbrelli anche, voi aprirete, farete l'apripista a 425 auto, straordinario un museo davvero viaggiato Sì, è un'esperienza unica, irripetibile, ma nel vero senso della parola, no mai fatta, quindi nel vero senso della parola, sono accanto a un campione sportivo, cosa che mi fa oltremodo piacere e quindi guarda, è veramente un, lo dico con grande verità e onestà, è un sogno che si avvera, insomma essere su una di queste macchine è sempre stato un sogno che chi come me ha passione per le auto è sempre stato un sogno che uno covava e teneva nel cassetto, oggi finalmente lo posso vivere, lo posso vivere in prima persona, quindi è un sogno che si realizza Ho sentito che vi darete il cambio poi a un certo punto con Rudy Zervi, quindi non lo vediamo qua Rudy da qualche altra parte? No, vedrete Rudy all'arrivo, cioè quindi lui farà l'arrivo, io farò la partenza e lui l'arrivo, quindi lo vedrete all'arrivo, stravolto, io sono fresco, lui arriverà stravolto Allora in bocca al lupo Crepi, grazie mille